ciao mi chiamo pasquale e faccio parte del team di america nils academy da oltre dieci anni la nostra accademia svolge corsi di formazione con passione e dedizione conquistando anche notevoli traguardi il fulcro della nostra istituzione è rappresentato dai corsi di formazione che svolgiamo online oppure presso la nostra sede in accademia i nostri corsi principali riguarda la ricostruzione unghie base per poi andare un corso avanzato acrilico expert smalto semi permanente nail art e tanto altro ma svolgiamo anche corsi di estation ciglia nelle tecniche di one to one o volume o corsi di laminazione ciglia e sopracciglia corsi di microblading corsi dna o make up ogni corso viene svolto da insegnanti interni di america nils o da master del settore inoltre partecipando ai nostri corsi avrai accesso a un listino dedicato anche sull'acquisto di un ulteriore corso le tante testimonianze delle nostre allieve costituiscono un elemento importante della nostra reputazione e ci aiutano a migliorare ogni giorno se vuoi scoprire tutte le nostre proposte formative ti basterà cliccare nel link qui sotto ciao e buona formazione grazie a tutti